Ciao a tutti, sono Francesco Annella, sono alto 1,73, sono nato a Napoli, vivo a San Giorgio il Cremano, ho vari appoggi a Roma e a Milano e sono rappresentato alla Cantera Management. Che posso vedere di me? Tra le mie numerose passioni, oltre a quella della recitazione, ci sono anche il pianoforte, la chitarra, il canto e le imitazioni. Infatti, sin da quando ero piccolino mi piaceva imitare i miei compagni di classe, i professori, poi con il passare del tempo politici e anche i cantanti. È stata poi proprio quest'ultima passione che mi ha fatto avvicinare al mondo della recitazione, perché volevo scoprire poi una mia intimità e una mia credibilità. E quindi eccomi qui, non ho altro da dire se non farvi vedere i miei profili e le mie mani. Ciao a tutti e spero a presto.